ben ritrovati con l'appuntamento meteo la perturbazione nord atlantica proprio in queste ore serali sta attraversando le regioni centrali dove sono in atto precipitazioni un po ovunque che continueranno per tutta la notte anche domani seppur con meno insistenza il tempo rimarrà incerto in tutto il centro sud mentre al nord tornerà a splendere il sole in abruzzo precipitazioni che insisteranno su tutti i settori fino a notte per poi continuare ad intermittenza nella giornata di domani soprattutto sui settori adriatici possibili nevicati fin sui 1500 1600 metri la ventilazione diverrà moderata sulle coste da nord e di debole intensità sulle zone interne mentre il mare continuerà ad essere mosso le temperature minime di questa notte rimarranno stazionarie comprese tra 6 e 13 gradi mentre in diminuzioni le massime di domani comprese tra 10 e 15 gradi è tutto per la meteo buona serata